Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Vi ricordo che se dovete acquistare oggetti digitali per PlayStation, Xbox, PC, volete acquistare Hogwarts Legacy, FIFA Points, PSN Card, eccetera, fate un salto su ineva.com, trovate il link in descrizione, prezzo più competitivo del mercato e assistenza e pagamento garantiti. Oggi vorrei parlare con voi della possibilità dell'arrivo di Cristiano Ronaldo Team of the Week e quindi chiaramente la versione Player Peaks rossa, la versione Food Champions che potete trovare nei premi della VL. Perché vi parlo di lui? Perché chiaramente è una carta che potenzialmente sarebbe molto interessante, perché sarebbe il primo Team of the Week stagionale per CR7 e sarebbe un CR7 molto più utilizzabile della sua versione base, e specialmente meno costosa della versione Rule Breakers, che è chiaramente più forte dell'ipotetico IF e che è ovviamente anche del Manchester United, quindi è una card totalmente differente e non comparabile. Ma il problema qual è? È come potremmo mai linkare una carta del genere? Sono solo tre le carte che danno un link a CR7 versione campionato arabo e sono Talisca IF, che non lo reputo realmente interessante, cioè Talisca IF non è una carta utilizzabile nel gameplay. Oltretutto il prezzo della carta di Talisca IF è già salito di 10k subito dopo il gol messo a segno, anzi i gol messi a segno della CR7, perché vi ricordo che Cristiano Ronaldo ha fatto 4 gol in campionato e quindi diciamo che potenzialmente dovrebbe ricevere una versione Team of the Week della prima della sua stagione. Ora, l'altra carta, le altre carte che danno link a CR7 sono quelle di All of Iran, sia la versione Marvel che la versione Hero normale. Ora, la versione Marvel è ovviamente fortissima, è strausata nel gameplay e sarebbe la soluzione migliore per andare a linkare CR7. Ciò non toglie che probabilmente chi utilizza All of Iran Marvel, che è una carta da 800k+, difficilmente va a utilizzare una versione di CR7 IF 91, che per quanto possa essere una bella carta interessante nel gameplay, non sarà mai, diciamo, interessante quanto è probabilmente la versione Rule Breakers o quanto sono altri giocatori tipo Mbappé similari che va ad utilizzare un utente foot che ha una squadra milionaria, ok? Quindi nessuno va a utilizzare CR7 versione Araba 91 se io ho una squadra che mi costa 6, 7, 8, 10 milioni, considerando una sola carta da 800k di All of Iran Marvel. Quindi probabilmente il link più interessante per CR7 PlayerPix potrebbe essere All of Iran Hero. Ora, la sua carta è già lievemente in hype, perché nel weekend costava tra i 46-47 mila crediti, parlo di prezzo PlayStation e Xbox attualmente, e oggi, che sto registrando che è martedì 14, il mattino, mancano 24 ore all'annuncio leak barra rilascio del Team of the Week, la carta costa già 50k. Ora, noi sappiamo che, dal momento in cui esce un eventuale link di CR7, sicuramente i link già salgono. Quindi già, volendo, potremmo scommettere e ipotizzare un rialzo di All of Iran Marvel, non Marvel, scusate, All of Iran Hero nel pre-rilascio del Team of the Week per, appunto, gli investitori che vanno a comprare la card per linkare CR7. Così come è capitato a Talisca IF, che è passato dai 24-25 mila, ai 34-35 mila, in maniera così casuale, diciamo, ok? Nonostante la sua categoria di overhaul fosse rimasta ai range di 24-25 mila, mentre il problema costa 35 talisca. Ora, il problema qual è? È, prima cosa, che sicuramente l'AIP pre-rilascio porterà prezzi più alti per la card di All of Iran rispetto al prezzo post-rilascio. Cioè, ipoteticamente, noi potremmo avere un prezzo adesso di 50k, poi magari un prezzo di 55k pre-rilascio del mercoledì sera, poi un calo mercoledì sera, perché gli investitori vanno a rivendere post-AIP la carta, e poi nuovamente la carta andrà a rialzarsi tra giovedì, venerdì, sabato, quando la gente inizia a spacchettare CR7 CR7 comincia a comparire sul mercato, il prezzo cala, la gente lo va a buttare in squadra, la gente lo va a trovare nei peaks della WL nei weekend, e per ibridarlo va a mettersi a fianco la carta di All of Iran hero base. Quindi, ipoteticamente, potremmo vedere un prezzo di All of Iran che va dai 50k oggi, 55-56 domani, ritorno a 50-51 post-rilascio team of the week, e poi da lì lieve lieve rialzo fino all'arrivo del weekend, quando la gente va, appunto, ad ibridare CR7. Ovviamente, il tutto è legato all'uscita di Cristiano Ronaldo nella squadra della settimana. Se CR7 non arrivasse a TOTV, Talisca torna a 24k, All of Iran hero base torna a 46-47k. Quindi, vedete la comuna scommessa, potete provarci, se vi interessa provarci, io ci provo con 6-7-8 copie di All of Iran, sta a voi valutare se volete provare o meno questa bet sulla card di CR7 nel Team of the Week. Fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi avremo andamenti differenti di prezzo o meno, più alti, più bassi, o non ci sarà hype su questa carta. Ditevano nei commenti, fatemi sapere se vi fate questa bet su qualche copia di All of Iran. Vi aspetto su Twitch e nei prossimi video qua sul mio canale YouTube. Alla prossima, grazie per la compagnia e un saluto. Ciao! Ciao!